Ciao a tutti, io sono Veronica, in arte la bambina mai cresciuta e ci risiamo, ci risiamo con i Collectimals. Allora, come avete visto in diversi video, a me piace praticamente tutto quello che trovo in edicola, fatine, gattini, pony, di tutto. Però vi devo dire che questi qui, per ora, di tutte le aperture che ho fatto, sono stati i miei preferiti. Mi ci sono appassionata tantissimo, tant'è vero che, allora, ho trovato una pallina un tempo fa in un'edicola, era l'ultima, e quindi ho chiesto all'edicolante se l'avrebbe riportati, e lui mi ha detto di no, che praticamente erano finiti, che erano una collezione del passato, diciamo, che non l'avrebbe riportate. Io, disperatissima, mi sono messa su Facebook a contattare tutti, ma te ce l'hai per caso un'edicola vicina dove vendono i Collectimals? Ma te li puoi trovare Collectimals? Ho chiesto a tutti, alla mia amica Marika, che saluto, ciao Marika, ciao Giulia, ormai li saluto in tutti i video, Giulia è contenta, almeno sono contenta anch'io, e l'ho chiesto veramente a tutti, e poi a un certo punto mi è venuta l'idea di chiamare un'edicola, che è in un paese praticamente vicino a dove abito io, e gli ho chiesto, ma ce l'hai per caso te Collectimals? Sì, sì, vieni pure, che te li do. Allora, tutta contenta, sono andata, mi sono vestita, ero un pigiama, ovviamente, io in casa sto sempre in pigiama, sono andata con il mio marito, insomma, e ce ne aveva tre palline, le ho comprate tutte, sono stata contentissima, e lei le ho chiesto, ma te ti ritornano queste palline? Lei mi ha detto, sì, sì, tranquillamente non sono andate via di produzione, fra virgolette, allora contentissima, mi sono segnata il numero dell'edicola, ora tutti i giorni li telefono, cioè, ma sarò matta, ma sarò deficiente, ma sarò scema? Sì, e la risposta è sì, 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 ci posso fare nulla, amici sono, io quando mi appassionano le cose sono così, le devo trovare in tutti i modi, se no, se no vado, vado al manicomio. Allora, ma basta blaterare e iniziamo subito, perché sono curiosissima, l'ho già comprato due giorni fa, però ho dovuto fare un altro video, e quindi la memoria del mio telefono è sempre quella che è, poverina, non ce la fa più, perché è pieno di roba, e io continuo a cancellare, continuo a cancellare, 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 ma non c'entrava nulla, e quindi se registro un video non ne posso registrare un altro, perché fino a che non lo carico e non ho più spazio nella memoria, quindi devo prima registrare il video, poi lo carico, poi quando l'ho caricato lo cancello dal telefono, almeno mi si fa un po' di spazio, e dopo ne giro un altro. Quindi, ora finalmente è arrivato il momento tanto atteso, mamma mia, sono curiosissima, mamma mia! E poi è proprio bello il momento dell'apertura, dello spacchettamento, della sorpresa, non sai quello che trovi dentro, non sai cosa aspettarti, è tutta una sorpresa. Allora, vediamo... no, mi sa che è un doppione, mi sa che è un doppione, no! Perché da qui, non so se voi lo vedete, non lo vedrete mai, ma io vedo che ci sono delle macchie, quindi sicuramente è la giraffa, che ho già... no! Vediamo, andiamo subito a vedere, 3, 2, 1... ed è la giraffa, lo sapevo io, ma perché trovo sempre doppione? Anche nella pallina che ho trovato l'altro giorno, ho trovato un doppione, non ci ho fatto il video perché ero troppo curiosa di vedere il che c'era dentro, però ho trovato un doppione, e questo è un altro doppione, cioè, ma io dico, no? Ma su 27 è possibile trovare sempre doppioni? Non è possibile, è una cosa anche di... cioè, devo essere sfortunata, infatti io sono sempre... ve l'ho sempre detto e sono sfortunata io con le aperture. Cali? Vabbè, la scambierò con qualcuno. Peccato! Cioè, mi garba, eh, poverina, però, insomma, preferirei non trovare doppioni, ecco, vorrei altri pupazzini. Ma perché? Uffa! Sono triste, ora sono triste, ecco. Non mi avete mai visto triste finora, ma questo è il video giusto. Va bene che, insomma, è una delle più famose perché fa anche la pubblicità di Collettimons, però, insomma... Via, andiamo avanti, andiamo avanti, che qui sento che non c'è un doppione, perché se c'è un doppione anche qui, mi arrabbio e smetto di comprarli. Perché non è possibile, un lavoro del genere, trovare doppi... Praticamente ne ho comprate per ora sei, no, quattro, sono sette. Su sette due doppioni mi sembrano un po' tanti. Allora, scusate, eh, intanto vado ad aprire quest'altra. Allora, vediamo un po' se mi riesce a qui, non mi riesce. Allora, vado con violenza, che è sempre la soluzione. Oh, questo qui non è un doppione, sapete da cosa lo capisco? Praticamente ci sono questi pallini qui, e si vede l'interno, vedete? Vedo del bianco, io non ne ho di bianchi, quindi penso che sia bianco un po' rosa, forse. Questo qui non è un doppione, a lei, meno male. Almeno si è trovato il doppione per primo, ora con questo mi vado a, insomma, a rallegrare un pochino, se non è un doppione. Allora, siete pronti? Tre, due, uno... Ecco Alvin, intanto, che viene a curiosare. Oh, bellino! Ecco, allora, questo qui, eh, quello mi piace tantissimo, però è quell'animaletto che non capisco che animale è. Molly, secondo voi, che animale è? C'ha un affarino qui in testa, che forse è un indizio, però non mi riesce a capire che animale può essere. Voi lo sapete? Allora, l'unica cosa che mi era venuta a mente, guardando la checklist, potrebbe essere un fennec. Sapete quegli animaletti che sembrano volpi, con le orecchie grandi, sono bellini, l'ho visti allo zoo certe volte, anche se allo zoo non mi piace, perché gli animali devono stare liberi, non imprigionati. Non mi piace, ma questo è un altro discorso. Quindi mi viene in mente se è un fennec, però non sono sicura. Cosa potrebbe essere? Cioè, ci sto guardando, ci sto studiando, sentite le mie rotelline del cervello che girano? Sì, praticamente, niente. Cerco di capire che animale è. Non mi riesce a capirlo, non mi riesce a capirlo. Lo vedremo, insomma. Se qualcuno di voi lo sa, me lo faccio. Anche perché questo colore qui, praticamente questi animaletti qui, più o meno, sono colorati come sono nella natura. Quindi, vuol dire che ha questo colore qui, lui, nella natura. Quindi, che potrebbe essere? Praticamente, ora dal video si vede male, però è tra l'arancione e il rosa, diciamo. È un po' più acceso da come si vede in video. Bellino, però. Guardate gli occhietti, gli occhietti verdi, ah. Si chiama come? Ah, Molly, l'avevo già visto. Bellino. Allora, io vi dico la verità, mi studio la checklist continuamente perché mi garbano troppo. I miei preferiti in assoluto sono Moka, il bradipo. Poi, Blu, il pinguino. Kobi, il koala. E poi ce n'era un altro che mi piaceva tantissimo, però ora non lo ritrovo, non mi ricordo qual era. Anche Coco, l'asinello. Ah, e Rico, il procione. Questi sono i miei preferiti, quindi sono quelli che spero di trovare. Però, ve l'ho già detto, mi piacciono tutti, quindi quello che trovo, trovo. Basta che non siano doppioni, perché doppioni basta, va bene, che bellina la giraffa. Però, allora, fatemi sapere intanto quali di questi due preferite. Io preferisco, allora, siccome la giraffa ora l'ho trovata doppione, mi sta un po' antipatica. Ah no, poverina, scherzo. Lo sapete che voglio bene agli animali. Però ora preferisco questo qui perché essendo un uovo, insomma, mi garba un po' di più. Però gli occhi sono belli, è della giraffa. Ha gli occhi azzurri, invece lui, anzi lei, perché chiamandosi Molly è una femmina, lei ce l'ha verdi. Che ne dite? Belline, belline da morire. Ciao piccoline! Ora vi metto la giraffa, ormai la scambierò con qualcuno, perché se no, insomma, ho la casa piena di giraffa ormai. Va bene, direi che con questo è tutto. Io vi saluto, grazie per aver guardato questo video. Se volete lasciate un like, un commentino, quello che volete. Condividetelo con i vostri amici se vi va. Grazie ancora a tutti per seguirmi, insomma, come sapete per me è importantissimo. E voglio bene a tutti voi, grazie, grazie mille. E ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao! Ciao!